Signore e signori bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tonokid che vi parla e oggi siamo tornati con Forspoken pronti a proseguire la nostra avventura Ok siamo stati arrestati, giustamente Oddio giustamente Non abbiamo fatto nulla di male perciò Però abbiamo visto che insomma c'è Non dico della civiltà perché non sono stati civilissimi con noi però ci sono degli umani anche in questo mondo Ah i poteri non servono a niente Ok C'è quello che ha fatto qualcosa per te annoi? No. Sai quello che hai fatto? Perché di te, non sto tornando a... New York? New York. Cosa è difficile ricordare? Talvez è difficile ricordare come Vambrace. Se la memoria mi serve bene, tu non eri proprio nei besti dei spiriti quando i nostri passi prima riusciti. Non è sicuro perché sei così determinato per riusciti. Sai cosa? C'è solo usare la magia per uscire di qui. Non è possibile usare i vostri capaci in fronte di loro. Cosa non? Voi pensi che io sono in cahoots con i demoni. Ma ci saranno a te per essere un heretico. Come una situazione di Salem? Ti aspettate a me sapere cosa che questo significa? Guardate, abbiamo fatto la tua forma e ora ci proviamo la mia forma. C'è solo usare la mia forma? Sì, mettere la mia forma. Chi è lì? Lo libero, ma ti devi mettere la mia forma e fare come ho detto. Ok, è la mia forma. tu tu sei la persona che mi ha fatto in corso perché hai fatto questo? perché credo in te ma dovremmo in corso come hai scoperto tu hai scoperto a guardi? ho preparato un peccato di scoperto in un pastore non è vero che ci sono davvero scoperto andiamo prima di dormire dove andiamo? qual è il tuo punto? Si esce? Finalmente? Aria pulita? L'intrusa, capitolo 3 Segui Uden Ok Guardi qua bellini loro che dormono Ma come fa a dormire seduta? E la Madonna? Siamo lini al tono, oi? Ok Andiamo se abbiamo tutta sta fretta Nome scelto da Frey per il miasma malefico che ricopre la maggior parte di Ati La rovina Ma sì, ma questo ci aveva già mezzo spiegato, no? Non sa da dove provengo perché si è comparsa all'improvvisa Però è chiaro che non si tratta di un fenomeno atmosferico Qualsiasi si arpeggia minacciosa a livello del terreno Rovinando tutto ciò che tocca Alcune delle modifiche che causa sono evidenti Mentre altre restano invisibili a occhio nudo Vabbè, ok Quindi tipo sotterranei, no? Città bassa, città alta, cos'è Bergamo? Cosa eravessi fatto anche nella città? Non c'è nessuno arrivato da fuori la città per molti anni Tutto in città vuole sapere chi sei Il prezzo e la diversità, credo Dopo quello che chiamate il break-shit Ehm, proviamo solo con il break Dopo il break che è successo La gente fuori i loro villaggi Sopole è la ultima bastione Sopole Rovina di merda, suonava meglio Farti vedere, dalle guardie, ok Stealth Ok, seguiamo lei, noi Stiamo incollati Viscini, vicini Viscini, vicini Viscini, vicini Viscini, vicini Viscini, vicini Non potrebbe avvicinare Ecco mi piace tutte le mie idee ok, queste si muovono corrono, anzi oh, c'ho però che c'è ancora quella, eh quindi? cosa facciamo? aspettiamo che si giri? ok, si è girato adesso andiamo? andiamo un po' qua un po' troppo rigida come situazione di gameplay ci voleva una cosa un po' più fluente, un po' più qua quindi? eh, mi raccomando, eh controllato bene, eh? insomma grazie ci ho anche da mangiare questa scusi, ma non è che per caso ho doppi fini grazie 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 non c'è nulla cosa buona senza chiedere qualcosa di riscaldare ho problemi di confronto mi confronto? mi confronto? Segui Odin Odin Non potevamo correre Doveva parlarci Caff Ma la gente sta male We can speak freely here I am Odin Keene Daughter of Robian and Calista Keene Oh, uh, I'm Frey Holland Daughter of Who the F knows I don't know how to respond It's okay Boring story, I'm over it Liar Hmm My father was a notable cognizant Cognizant? Cognizant You say tomato, I say tomato Tomato, tomato Okay You are very strange, Frey Cognizants are Athia's most highly respected scholars And my mother was a general Oof, that is a lot to live up to Wait, was? I've been on my own Almost my whole life I know what that's like I don't have any parents I had some foster ones But they never really stuck So you must feel the same way That we got royally screwed That we must help others Tomato, tomato In effetti Un po' troppo altruista lei, signorina, eh Devo dico Però grazie Non mi lamenti Albero umbroso I like you more and more I like you more and more So about that food You had this on you the whole time I needed you to follow me Frey Holland Daughter of who the F knows Hmm Just Frey's fine and, uh, well played Well, thanks for the jailbreak lady and the apple But, uh, this is where he part ways Please wait I need your help to save my homeland Ah, mystery solved That's not happening The circle of bending light The rushing sound That's what brought you here, yes? You want to go back home, don't you? I may be able to help you Hmm, attenzione Sbaglio, è un po' grande con la mela lì Ci può stare, è un bel compromesso Sbaglio, è un po' grande con la mela Sorry, I didn't see you Give it back Come on Second rule of pickpocketing Never give back what you stole It's the first rule Don't get caught What is it anyway? Something that ain't worth crap here Well, if it isn't worth anything Why can't I have it? Nice try, munchkin Now scram Le mazi però, eh Mocciosa Eh, che cazzo A pint of your finest ale, my good sir Oh, a hell of a kick You guys do not mess around All right, let's hear it This isn't gonna last long My father researched the phenomenon known as the Tarana extensively Tarana? The tunnel of light you traveled through I believe his work holds the answers you need I could give you his findings And... Here it comes In return, I want you to find his research notes on the break They are... In the break, right? It does not seem to have any effect on you So they say Many have tried to find what's outside the city Many have tried to find what's outside the city, but They don't get far before... Before what? You are the only hope we have You're special Okay, you obviously don't know me I want proof Follow me and I'll show you And... Thank you I haven't said yes Però, più o meno Ancora la seguiamo? Ci fidiamo? Ma io volevo finire la birra Do you believe her? I suppose anything is possible Some chance is better than no chance I do not want to go back into that hellscape Come on, it'll be fine I'll be with you after all Not comforted Faccio strada io? Ma può correre, signorina? Hop hop Dai un po' di Eh Ministra, no? Niente Non è questa casa sua Questa no L'ultima? L'ultima, ok Si può? Permesso Sono qua, dimmi Esamina la stanza, ok Oh, quadro Is this them? Your folks? Yes I never saw him again 20 anni Questa serie è storia tristi, insomma Could you tell me about him? He was a brilliant man Beloved by many He was close to finding a way of slowing down the break, maybe even reversing it People put their faith in him Believed that he would make the world how it used to be I'm trying my hardest to continue his work to keep hope alive Here, these are his notes on the tarana Yeah, yeah, this looks familiar You can have this after you help me Quiproquo Quiproquo I get it He kept his notes on the break and read journals like this one I need you to find them and bring them back Ok, so I go and get the journals, bring them back and then we're square That's the full extent of my savioring I will do everything in my power to help you get home You have my word Cross your heart and hope to die You wish me dead? No, no, it's a phrase we have on our... forget it I shall pretend those words were never uttered Good Ok, I'm in Why not? It's not like I've got any better options Oh, this is good news You are truly helping the people of Athia Uh, not why I'm doing it, but yeah, sure If you're planning on heading into the break, you'll need to get some rest I'll go in the morning You got anywhere I can crash? Crash? Crash Crash, sleep Oh, of course Follow me Parliamo un po' troppo... Con lo slang americano Non ci capiscono Ah, ma non stiamo qua da te, no? Vai, c'è com'è Hai detto, posto? Ci diamo Grazie, cara Eh, non so Non so cosa volevi fare, entrare E' tutto però Insomma Poi invadente Qua cosa è che abbiamo da raccogliere? Qualcosa? No Il fuso curativo, siamo già pieni, quindi Dormiamo? Dormiamo In effetti Il viaggio di Frey Dice svegliate Svegliati, svegliati, no? Attenzione Però La tuttina qua Va bene Equipaggiamento L'equipaggiamento è composto da una serie di oggetti utilizzabili da Frey Per migliorare le sue abilità, caratteristiche e tecniche Puoi modificare gli elementi dell'equipaggiamento in uso Nella sezione equipaggiamento dal menu principale Ricordati di controllare gli effetti degli oggetti che trovi Potrebbero fare davvero la differenza E quindi ci introducono anche All'equipaggiamento Comune mantello indossato dagli abitanti di Cipal Non ha effetti straordinari ma si rivela Robusto e resistente Perfetto Questa mappa dettagliata è data a Frey Da Ud A Ud Non so come si pronunci Riporta tutti e quattro i regni di Atia Junun Praenost Avolet E Visoria Il centro sorge invece Cipal Prima della venuta della rovina Le persone viaggiavano liberamente tra queste terre Ma tali giorni sono ormai passati E nessuno sa che cosa ne sia stato Dei luoghi rappresentati sulla mappa Lo scopriremo noi Attenzione Le ricerche di suo padre Non di nostro padre Suo direi Allora guarda qui Ok perfetto Ah possiamo apprendere due nuove incantibili Aspetta Punto schermativo cos'è parlo con lei Grazie di nuovo Tanta's bless Tu anche Qualcuno che significa Beh come Che Dio ti protegga No Di solito lo dicono gli americani Che Dio ti protegga Che protegga I stati uniti d'America No Cipal Cipal Perchè potrebbe prendere un'appel Un'appel a day Avvicinati a qualcuno con l'indicatore Per il mio triangolo Per intavolare le discussioni Fin tanto che ti è possibile Ci proviamo Ma sono missioni secondarie Immagino Un uomo Buongiorno Sentiamo Bene strano Cosa hai fatto Scusami Scusami Ho schippato Perché non capivo Scusami E' un po' 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 Ok Io non l'ho sentito suonare Onestamente Vabbè Emilia Cistidi Chisti No Oddio con la guardia Non ci parliamo Direi Per carità Interessante Sentire Un po' Quello che Circonda La nostra Avventura Principale Però Abbiamo un po' Di fretta Siamo La città Dammit I mean Well That was a short trip How the hell'd you get out of this dump anyway I know a way You You've been following me, Kit? No But I know how to help you Really? I know everything around here Mm-hmm And what's that gonna cost me? An apple? Maybe So you have been following me Sure You seem hungry Olivia Just follow me Bimba Bimba Not really It's Olivia And you're afraid Everyone's been talking about you I guess I'm kind of famous around here Does famous mean hunted by the gods? I call it Finders keepers Damn Did you steal all this stuff? No All of it You're growing on me, kid Some people have no idea what they're throwing away I often make new things out of this stuff Yeah If you get hurt This will help you heal No? No No All right Curativa You'll have to give me the recipe Of course Let me teach you how Ah Ci insegna a creare le cose Ok Ok Lino balsamico Attenzione Per respirare meglio Quando si ha raffreddore Usa il banco da lavoro Per preparare un infuso curativo Creazione Puoi potenziare e combinare Diverse risorse Risorse trovate Per migliorare i tuoi mantelli E collane E creare nuovi oggetti utili Servirà un banco da lavoro Ma una volta che ne avrai trovato uno Potrai creare infusi curativi E migliorare il tuo equipaggiamento Non male Proviamo Infuso curativo Utilare la borsa Per rimedi di uno Ok Facciamo crea Una scheggia preziosa Ci serve Fuso curativo Ce l'abbiamo Siamo già al massimo Quindi ok Vabbè Ne ha discarica Questo cos'è? Erba rupestre Ok Quindi Ok Salute Vabbè Ci dice cosa Cosa possiamo Potenziare O creare Salute Ah ok Così è migliore di uno Gli effetti di equipaggiamento Non ne abbiamo Ah si Salute Più 5 Difesa Più 5 Magia Viola Più 2 Colpi Critici Possono potenziare Attacco Colpi di grazia Consumono Meno vigore Ah Possiamo dare Dei Potenziamenti Va bene così Che la salute Vedi salute Salute Più 5 Per cento Guarda Un altro Difesa Più 5 Per cento Via Pensiamo tutto Posto Magari nel lungo e largo Troveremo a trarare la creazione Di ogni tipo Raccogli in un numero sufficiente Potrei realizzare Nuove oggetti E migliore Il tuo equipaggiamento Ok Piccolo tutorial Anche sull'equipaggiamento E penso che abbiamo visto tutto No Non, non sono una tante. Cosa cosa con questi ragazzi? Sono la più forte e più potente in Athia. Tutti tutti avevano donazioni. Ma in passato, usavano per aiutare la terra. E un giorno... Vanno e salvano a noi. Oggi, figlio. Da esperienza personalmente, devi guardare per te. Ci sono persone che si rilassano da storie. C'è qualcosa. Vedrai. Ok, beh... Ho scoperto. Hai detto che sai meglio da questo posto? Beh... Se si rilassi da questa walla, dovrebbe aiutare da dove vuoi essere. cool thanks I'll see you when I see you I'll keep this city safe for you gone sure you do that ci allarghiamo adesso è bimba è a casa mamma quale muro però ok ok si può se se la ridono cosa c'è qua che è oddio c'è un gatto sono molto felice che hanno gatti in Athia anche vediamo mi insegui quei gatti insegui il gatto e non perderlo di vista in che senso deviazioni mi ciò dove mi porti no non girare in tondo vieni qua fermati oddio cosa abbiamo trovato pupazzo un tempo molto un tempo molto molto comuni ad Athia ah ok i pupazzi queste bamole di legno sono ora piuttosto rare non capivo la frase molte generazioni hanno avuto questi pupazzi come giocatori da bambini una volta ce n'erano di così tante fogge quante erano le origini e le personalità dei loro proprietari oggigiorno però nessuno realizza più questi oggetti e il loro valore è aumentato considerevolmente quindi grazie micio sono delle prezioni di bamole di legno incise a mano potrebbe esserci qualcuno interessato a scambiarle per altri oggetti attenzione deviazioni deviazioni queste sono le missioni secondarie grazie micio una carezza gliela diamo? a posto ciao micio grazie per il pupazzino eh signora ho fretta non possiamo stare qui a parlare scavacchiamo? andiamo lasciamoci pal i luoghi si iniziano la mappa di joden sono stati aggiunti alla mappa del mondo ok quindi noi dobbiamo andare alla gilda di xenos posizione indicatore ci sono un po' di cose in mezzo o sbaglio ponte benedetta questo cos'è? giù delle piane deserte vabbè no pare che di qua forse non riusciamo neanche andare perchè c'è il muro credo forziere vabbè direi di andare avanti vediamo se c'è nelle vicinanze nelle vicinanze qualcosa che cosa che cosa sono queste cose? sono persone? credo che questo è quello che succede quando gli uomini sono affettati vedete 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 ho detto che le persone che venivano qui non si rendono molto lontanze esplicitano se le persone di St. Paul preferano stare dentro oh oh no i poteri dei eh no no vi non ho letto perchè stavo schiacciando ok mettiamo questa ok le tue azioni durante le battaglie saranno utilizzate per conferire un grado al termine dello scontro più alto il grado che riceverai più oggetti troverai una volta sconfitto il nemico e più esperienza otterrai otterrai si sferrare degli attacchi alle spalle ed effettuare altre azioni che evolgeranno la battaglia a tuo favore incrementeranno il grado mentre superi danni o passare a una situazione di svantaggio lo ridurrà più volte effettuerai la stessa azione nel corso di una singola battaglia meno incrementerà il tuo grado ai livelli di difficoltà più alti non ce la posso fare sarà più facile ottenere i gradi più elevati ok c'è in giro qualcos'altro oddio c'erano cose in là vediamo vabbiamo 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 al vabbiamo a vabbiamo che Ok Scheggia preziosa Direi di andare avanti Per la nostra strada Oddio questo? Fonti benedette Luoghi sacri dove si dice che sia possibile risvegliare capacità magiche latenti In aree come queste potrai persino riuscire a imparare qualche nuovo incantesimo Attenzione Importante allora questo Oddio così a fiducia Oh Nuovo incantesimo appreso Attenzione Scalata Datti lo slancio da una parete per arrampicarti più in alto Mira alla parete premi L più B a mezz'ari Ok Posto? Abbiamo imparato una nuova cosa? Ok abbiamo capito anche come si fa Perfetto Rifugio del pellegrino In giro per il mondo troverai alcuni rifugio del pellegrino Sono luoghi sicuri in cui puoi riposare per recuperare salute E creare oggetti che ti saranno utili nel corso della tua avventura I rifugio del pellegrino visitati saranno aggiunti alla mappa Quindi meglio fermarti e dare un'occhiata a quelli in cui ti imbatti Va bene Facciamolo subito Dammi una flashata Fammi capire se c'è in giro qualcosa No Perfetto Ma quella cosa di? No Ok no Vedevo gli spuntoni lì Ehm Si può? È permesso? Puoi raggiungere istantaneamente Cipolo Qualsiasi rifugio del pellegrino che hai già visitato dalla sezione mappa del menu Potrebbero esserci alcuni punti della storia o determinati eventi Durante i quali non potrei utilizzare questa funzione Ok viaggi rapidi Ci sta Sì esatto Allora Ok vabbè questi sono dei I racconti magari Starebbe anche leggere tutto Però insomma Già faccio fatica leggere Si intorciglia tutta la lingua ogni volta Sono scappace di parlare Allora fammi vedere Qua Se possiamo Se possiamo creare Ma la borsa per rimedi Ok ci sta Se possiamo portare più infusi curativi Visto che possiamo anche crearli Ok Potenziare Eh guarda Onestamente Danni da veleno dimezzati Va bene Teniamo Così al momento La salute Già che ci stiamo Ok Ma solo la salute possiamo Ah no la difesa Però dobbiamo Ok Aumentare le abilità Va bene va bene Per quanto riguarda invece Qua le nostre magie Che avevamo sbloccato questo Ok Eh Non abbiamo Cose strane Queste le sblocchiamo Dalle fonti benedette Ah no Qua ci servono Ok Sassata multipla Livello 2 38 Punti Diciamo Non so Non so Che non si chiamano punti Però sti cazzi Tralcio Sferza con un tralcio di edera Serpeggiante Intorno a te Infliggendo danni Nell'area circostante E ripristinando Dato assoluto in proporzione I danni inferi Oh Interessante Questa Interessante Potremmo anche sbloccarla Giusto Apprendiamola E via Abbiamo speso di punti Ma Ci può stare Ci può stare Collane Non abbiamo niente Mantello Ok Va bene Eh Ok Io direi Signori a questo punto Che ci possiamo salutare qui Ci facciamo una dormita Così Salviamo anche il gioco Recuperiamo salute Cosa che Forse abbiamo perso poco Poca salute Ok Dorme basta Non salva Vabbè salviamo noi E Perciò signori Io vi ringrazio come sempre Per aver visto il video Vi invito a lasciare un like Un commento E come sempre Tra l'altro E come sempre Direi signori Che a questo punto Ci vediamo con un prossimo video Continueremo la nostra avventura Con la cara Frey E il buon Gingillo Attaccato al nostro Braccio Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.